A Napoli la Pasqua 2024 da record con tanti turisti attratti da arte e tradizione. Da domenica delle palme al via i riti della settimana santa, oggi messa in cattedrale. Ennesima morte bianca, dramma al porto, muore un 45enne schiacciato da un carrello. Senza pace il Napoli, per lo bocca ora sirene catalane con il richiamo del Barcellona. Ben ritrovati a tutti, siamo all'edizione notte del nostro videogiornale che apriamo, l'avete ascoltato anche nei titoli di testa, parlando di questo periodo che ci porta ovviamente alla settimana di Pasqua e che è caratterizzato dalla presenza di tanti turisti in città. C'è da dire che un'anteprima di ciò che si prospetta per la prossima Pasqua e Pasquetta già si è potuto tastare con le giornate del FAI che hanno aperto monumenti in città difficilmente visitabili e che ha visto poi una particolare attrattiva proprio al Molo San Vincenzo non fosse peraltro anche sede dell'Esset di Mare Fuori. Ma quel che conta è che è una città ormai aperta al turismo che attrae per motivi di carattere culturale e storico ma anche per la tradizione. Servizi dell'Omazzone. Napoli fa registrare il boom di turisti anche per questa Pasqua 2024 come nella Domenica delle Palme e tantissimi turisti presenti in città. E questa volta c'è anche la seconda delle due giornate di primavera del FAI che hanno attirato migliaia di visitatori da tutta la regione. 40 luoghi simbolo tra monumenti e siti d'arte solitamente preclusi al pubblico sugli oltre 700 in tutta Italia. E c'è poi un luogo simbolo partenopeo guidare la speciale classifica dei più visti ed è la base della Marina Militare al Molosilio letteralmente invasa da cittadini e turisti complici la sua bellezza e solennità ma anche naturalmente la fiction Mare Fuori che ha attirato tantissimi giovani addirittura tanti in fila via Acton occupando tutta la banchina del Molo San Vincenzo. E c'è poi i percorsi tenuti dai giovani apprendisti ciceroni studenti delle scuole Tito Lucrezio Cario e altri misi agenti lischi. L'ambiente solitamente chiuso ai civili è stato uno dei più ammirati durante i tour del FAI. Ovviamente anche aperti in occasione delle giornate del FAI Villa Rosberi, residenza partenopea del Presidente della Repubblica Già sold out ieri con 360 persone Dulcesi in fundo lo straordinario riscontro del Castel Capuano con oltre 900 ingressi Piace dunque il primo maniero cittadino costruito nel XII secolo e a lungo sede del Tribunale di Napoli Anche qui, ancora una volta, giovani volontari del FAI a veicolare gli avventori. La giornata del FAI ha deciso di venire al Molo San Vincenzo perché? Perché Molo San Vincenzo è oltre a una curiosità ma un centro importante se si considera che è il quartier generale della Marina Militare Quindi è un'occasione utile questa grazie al FAI per vederlo? Ma sicuramente, il FAI ci offre sempre delle mete e delle guide molto interessanti quindi noi siamo iscritti al FAI e quindi siamo contenti di questo. Chi ha scelto di venire questa mattina grazie al FAI al Molo San Vincenzo? Perché sono nipote di un militare della Marina ma non solo per questo perché ho una curiosità insomma di valutare e conoscere tutte le belle cose della mia città che non conosco. Un boom di turisti a Napoli in questi giorni e anche queste iniziative sono nel senso di promozionare la città la parte bella di Napoli? Senza dubbio, speriamo che siano positive e foriere di apertura alla cultura, almeno questo. Ho deciso di venire grazie alla giornata del FAI a vedere il Molo San Vincenzo anche un po' perché, non so, per i giovani, il mare fuori. Sì, lui ha sempre cercato quella cosa di venire. Fortunatamente oggi è una giornata del FAI, ne abbiamo approfittato per le conoscenze delle bellezze desiderate della nostra città e per accontentare il nostro giovanotto. Eri curioso di vedere anche il set, ma dove si gira da sopra? Sì, esatto, esatto. Volevo venire a vedere appunto dove veniva girato il mare fuori e vedere tutto quanto, diciamo, il molo. Presenze che vi aspettavate numerose, ma forse non come in questi termini, così ampi, insomma. Guarda, in realtà il grande successo delle giornate di autunno dell'anno scorso e soprattutto del Real Albergo dei Poveri già ci avevano dato un grande indizio in questo senso. In particolare l'Albergo dei Poveri lo scorso anno aveva totalizzato più di 7.000 presenze e quindi questo effetto, diciamo, di amore nei confronti del FAI e della storia dei luoghi della nostra città era un po' nell'aria. La cosa incredibile è che già alle 8 e mezza si crea una fila così lunga. Quindi forse questo è il dato più interessante, che c'è una sete di cultura, una sete di curiosità nei confronti dei luoghi più belli della nostra città già alle prime ore del mattino. Le persone da tutta Italia si organizzano per venire a vedere questi luoghi. Salvaguardare dunque il flusso turistico anche con iniziative che salvaguardano la sicurezza dei turisti stessi e la qualità del servizio offerto. C'è una vera e propria azione da parte del Comune di Napoli in termini stringenti per quanto riguarda l'abusivismo nel settore turistico. Vediamo. Il Comune di Napoli recupera 13 milioni di euro da case vacanze, B&B e affittacamere. Infatti gli accertamenti di Palazzo San Giacomo hanno scoperto che solo un terzo pagava la tassa di soggiorno. A questa evasione si aggiunge quella sulla Tari, la tassa sulla spazzatura imposta sconosciuta per molte strutture ricettive che non registrano gli ospiti. Una situazione a cui vanno aggiunti i numeri da Far West per B&B e case vacanze a Napoli. Rispetto al maggio scorso c'è stato un aumento di circa il 30% degli annunci. I numeri sono stati resi noti da Inside Airbnb, il sito che monitora i movimenti. Su Airbnb il principale portale dedicato al turismo. Ma ciò che allarme è la percentuale dei potenziali fuorileggio, ovvero chi gestisce più annunci sulla piattaforma, il 62% a Napoli. Su Inside Airbnb si legge che è probabile che gestiscono attività imprenditoriali e violino la maggior parte delle norme sui affitti brevi per proteggere gli alloggi residenziali. Solo pochi giorni fa il Comune aveva varato il nuovo piano urbanistico con un obiettivo ben preciso, salvaguardare i residenti del centro storico. Nessun tentativo di bloccare il turismo, chiariscono da Palazzo San Giacomo, ma un tentativo di riequilibrare una rendita immobiliare drogata dalla situazione del mercato. Già da luglio scorso con una legge regionale si obbliga a chi affitta i turisti con la formula delle locazioni brevi a segnalare l'attività al Comune e da gennaio per una direttiva europea i portali tipo Airbnb chiedono dati anagrafici e fiscali. Anche se a rilento gli uffici del Comune stanno annullando diverse comunicazioni di attività perché le abitazioni non hanno i requisiti urbanistici minimi, ha dichiarato Agostino Ingenito, presidente di Abac. Con la Domenica delle Palme alvia i riti settimanali della Settimana Santa, oggi cerimonia in Cattedrale. Con la commemorazione dell'ingresso del Signore a Gerusalemme, la processione verso la Cattedrale, la celebrazione eucaristica con l'Arcivescovo di Nauro, Don Mimmo Battaglia, è iniziata ufficialmente la Settimana Santa e la Chiesa Napoletana. E Don Mimmo Battaglia nella sua omelia ha inviato un messaggio di pace innanzitutto, ma anche di vicinanza umana alle donne vittime di violenza, ai desideri dati e a tutti coloro detto che vivono affanni quotidiani. In quelle piaghe, nelle piaghe del Cristo, vediamo le piaghe di chi non ha lavoro, di chi è tormentato dall'angoscia per il futuro, di chi ha conosciuto il dolore della morte a causa dell'incuria dei nostri territori, per il veleno disseminato nei nostri terreni e nella nostra aria. In quelle piaghe, le piaghe delle donne vittime di violenza, degli esclusi, di chi soffre a causa della giustizia, in quelle piaghe, le piaghe dei giovani che non riescono a mettere insieme i pezzi della loro vita. E allora la cosa più importante che noi possiamo fare, oggi, in questi giorni, ma anche tutti i giorni, è sostare accanto alla santità delle lacrime, presso le infinite croci del mondo, dove Cristo è ancora crocifisso nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle. E' un trapanese di 45 anni, il marittimo morto ieri sera nel porto di Napoli. L'ennesima morte bianca, lavorava a bordo della nave Antaresi, il marinaio stava ultimando le manovre di carico prima della partenza della nave, quando è rimasto schiacciato dalla ralla intenta a posizionare un semirimorchio. L'uomo originario di Trapani non sarebbe accorto della manovra e è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. I sindacati si dicono sgomenti per l'accaduto ed esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia del marinaio, in particolare alla moglie e alle due figlie. Sul luogo dell'incidente, sono interrutti militari della Capitaniera di Porto, la Procura ha aperto un'inchiesta per accertare le cause dell'incidente. Torniamo a parlare di Napoli e di un mare che spesso è negato. Abbiamo già trattato questo argomento, purtroppo ci sono accessi negati a spiagge che invece dovrebbero essere utilizzate dai cittadini. C'è stata anche una sentenza al riguardo, però ancora una volta, come vedremo nel servizio, il cancellio della spiaggia delle Monache risulta chiuso ai tanti cittadini. Vediamo. Secondo giorno di chiusura della spiaggia delle Monache, i comitati civici preparano così un nuovo esposto e minacciano denuncia contro i gnoti per il mancato accesso al lido pubblico. Secondo loro si tratta di una violazione privata. Restano infatti sbarrati i cancelli che consentono l'ingresso al lido comunale a cui si accede attraverso la servitù di passaggio il condominio Sirena, che da ieri ha chiuso i battenti per problemi burocratici, come vedete nel cartello esposto questa mattina al di fuori della struttura. Ieri nuovo sopralluogo intanto dei comitati mare libero e gratuito, rimasti fuori assieme a turisti e napoletani che chiedevano di entrare. Ci sembra assurdo, dicono i comitati, dopo tante chiacchiere su piattaforme e accesso al mare, che una delle poche spiagge libere rimaste sia chiusa e non venga fatta rispettare la servitù di passaggio, che è un diritto. Quel cancello, dicono ancora i comitati, va riaperto, che siano i privati o il comune a farlo è relativo. I membri del comitato annunciano nuove mobilitazioni e nei prossimi giorni è un esposto denuncia. Intanto, martedì, gli attivisti sono stati convocati nei capigruppo dei partiti per l'audizione in consiglio comunale. Ieri, l'unica spiaggia pubblica aperta a Napoli era Donnanna, che nel weekend che precede la Pasqua era piena di napoletani e turisti. Parliamo adesso dell'azione di recupero di carattere sociale e ambientale di Caivano, importante iniziativa che vede coinvolti tanti giovani che in qualche maniera devono affrontare sì una situazione ambientale difficile, ma supportate soprattutto dallo sport, riescono a superare momenti così impegnativi e difficili. Vediamo. Un fiore nel cemento è lo slogan intorno al quale si sono ritrovati WISP, Campania, Libera e Associazioni del Territorio per una giornata di giochi e sport che si è tenuta a Caivano a Parco Verde venerdì scorso. Nel corso dell'evento è stato srotolato lo striscione con il quale giorno prima, giovedì 21 marzo, una rappresentanza di ragazzi e ragazze di Caivano ha partecipato alla manifestazione nazionale indetta da Libera a Roma in occasione della giornata della memoria in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Siamo del parere che la forte potenza aggregativa dello sport possa fare tanto per le giovani generazioni anche in termini di contrasto alle mafie. In un contesto urbano spesso dominato dal cemento e dalle difficoltà socio-economiche come quello di Caivano l'iniziativa Un fiore nel cemento che ha visto la partecipazione delle famiglie di alcune vittime innocenti della Camorra che hanno condiviso la loro testimonianza di speranza e resilienza si proponeva dimostrare come la bellezza possa emergere anche nei luoghi più inaspettati e come possa costituire un efficace antidoto contro l'insicurezza il degrado urbano e l'illegalità. Parliamo adesso di un'importante iniziativa della Società di Italiano di Dermatologia ovvero sia un'iniziativa che apre le porte dei studi e soprattutto degli ambulatori di dermatologia per affrontare una patologia molto diffusa che è la dermatite atopica dalla parte della tua pelle e per far questo abbiamo in diretta audio-video il professor Giuseppe Argenziano presidente appunto della Società Italia di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse buonasera professore grazie per il suo intervento buonasera buonasera salve dunque prima di entrare nel vivo dell'importante iniziativa vuol spiegarci molto sommariamente naturalmente perché è una patologia abbastanza articolata cosa intendiamo per dermatite atopica sì la dermatite atopica è una malattia molto diffusa in pratica è la malattia più frequente nei bambini è una delle malattie della pelle più frequenti anche nell'adulto il fastidio più importante è un prurito feroce che affligge tantissime persone che soffrono di questa malattia e che oggi ringraziando il Dio può essere curata molto bene con dei farmaci innovativi che bloccano completamente il processo che porta al prurito e quindi ai fastidi legati alla malattia dunque lei ha accennato molto diffusa nei bambini in età pediatrica però questa iniziativa specifica di queste settimane perché si concluderà il 15 aprile questa importante iniziativa è rivolta soprattutto agli adulti se non sbaglio giusto? sì sostanzialmente saranno aperti i centri di dermatologia ovviamente quelli universitari e non solo come si svilupperà questa importante ampia iniziativa? sì in pratica in tutta Italia in giornate specifiche ci saranno dei centri sia ospedalieri che universitari che accoglieranno le persone affette da questa patologia per delle visite gratuite e è molto semplice basta chiamare un numero verde che viene pubblicizzato nelle diciamo nelle locandine relative alla campagna e quindi si farà un appuntamento specifico a cui appunto i pazienti possono quindi recarsi attraverso questo numero verde al centro più vicino casa ma parliamo di un sospetto diagnostico o già di diagnosi posta professore? beh diciamo che abbiamo delle domande di screening diciamo per capire se siamo di fronte a una persona che soffre effettivamente di questa patologia è chiaro che è uno screening molto come dire a maglie larghe nel senso che voglio dire accettiamo qualsiasi persona che si riferisca di soffrire di prurito e quindi di un sospetto relativo a questa malattia ecco rispetto agli anni scorsi che già ha testimoniato un successo rilevante quest'anno si allarga ancora di più insomma l'iniziativa sì assolutamente ormai sono alcuni anni che facciamo questa insomma portiamo avanti questa iniziativa e che devo dire sta avendo un grande successo l'anno scorso abbiamo visitato veramente migliaia di persone in tutta Italia e quindi spero che quest'anno la risposta sia ancora più importante da parte delle persone io la ringrazio per questa informazione ricordiamo a tutti i nostri amici che ovviamente uno dei riferimenti comunque resta credo il medico di medicina generale che in qualche maniera può indirizzarvi per una diagnosi importante come ha spiegato il professore per fortuna adesso c'è anche la terapia per affrontarla grazie e buon lavoro grazie a voi e buona continuazione arrivederci e adesso invece parliamo tornando a individuare e a ricollocarci nell'ambito della settimana dedicata alla alla Pasqua anche l'importante iniziativa della nostra emittente che proporrà appunto la messa di Pasqua dal santuario della Madonna dell'Arco domenica 31 alle ore 7 in diretta appunto su canale 21 una lunga mattinata di preghiera e partecipazione in cui si celebra la resurrezione del Signore ma anche una tradizione popolare che si ripete ormai da secoli una devozione che affronta le radici in alcuni luoghi simboli della campagna e tra questi appunto anche la Madonna dell'Arco di Santa Anastasia piccolo comune alle pendici del Vesuvio la tradizione partendo dal giorno di Pasqua appunto culmina nel lunedì dell'angelo di notte e tanti sanno di questo aspetto migliaia di fluenti si recano appunto alla Madonna dell'Arco canale 21 a partire dalle ore 7 del 31 del giorno di Pasqua proporrà la seloenne celebrazione eucaristica dal Santuario Mariano che si prepara poi appunto all'evento del lunedì dell'angelo con la trasmissione dei grandi eventi religiosi dichiara l'editore Paolo Torino vogliamo offrire al nostro pubblico l'occasione per celebrare le tradizioni della nostra terra quindi importante l'appuntamento per il domenica 31 alle 7 del mattino con la messa di Pasqua qui a canale 21 e parliamo adesso invece di un'altra appuntamento che questo però subito dopo il nostro videogiornale infatti al termine del nostro videogiornale sarà trasmessa la rubrica il libro della settimana questa puntata è dedicata alla pubblicazione La mia Napoli della scrittrice Daniela Ottone nel corso di un'ampia intervista l'autrice illustra i temi salienti della sua pubblicazione che coniuga il mondo interiore e sociale della scrittrice nel contesto della grande storia metropolitana appuntamento subito dopo il nostro videogiornale ora ci fermiamo c'è la pubblicità poi pagina dedicata allo sport a tra poco buona spesa a chi ha sempre un motivo per sorridere e a chi ha bisogno di tirarsi su buona spesa a chi ha fretta di diventare grande e a chi è rimasto un po' bambino buona spesa a chi ama la convenienza e anche a chi festeggia la Pasqua va da MD con i gamberi argentini a 9,90 euro e il proscecco superiore valdobbiadene di OCG a 3,99 euro MD buona spesa Italia allora mentre il campionato è fermo per la tournée della nazionale in Stato Unito tra le altre cose l'Italia ha battuto l'E4 per 2 a 0 un gol all'ultimo minuto il secondo che ha dato questa vittoria alla nazionale di Spalletti per il Napoli le preoccupazioni non mancano in termini di voci di mercato e c'è qualche sirena che giunge alla Barcellona per quanto riguarda Lobotka ci racconta in particolare Giovanni Frezzetti le dichiarazioni del presidente del Barcellona alla porta spaventano il Napoli Lobotka ci piace ne abbiamo parlato con il nostro direttore sportivo parole che fanno seguito a quelle di Schavi mi piacerebbe vederlo a Barcellona e che hanno il sapore di un possibile assalto per il centrocampista slovacco in estate voci di mercato che hanno già portato a una short list di eventuali sostituti di cui fanno parte Scouten ex Bologna ora in forza il PSV e Quinten Timber del Feyenoord sempre a centrocampo il Napoli guarda anche al possibile sostituto di Zielischi con Goresca e Sudakov che sembrano essere in cima alla lista del tacquino di Meluso e a proposito del DS Azzurro la sua posizione non sembra saldissima il nome caldo è quello di Pietro Accardi dell'Empoli che si sposerebbe appieno col modello Napoli pescare i talenti e valorizzarli intanto il presidente De Laurenti si è esercitato l'opzione presente nel contratto di Alex Meret che è stato quindi prolungato di un anno e che scadrà nel 2025 una decisione legata certamente al timore di perderlo a zero in estate poiché per il ruolo di portiere per il prossimo anno scalpita Caprile che tanto bene sta facendo in prestito all'Empoli possibile rivoluzione anche in attacco con Simeone e Raspaduri che potrebbero partire certo invece sembra l'addio di Osimen che con la clausola da 130 milioni ha un futuro assicurato in una big europea Davide Gimenez sono nomi caldi per sostituirlo infine per il capitolo difesa il flop di Nathan porterà il Napoli ad acquistare un centrale l'ultimo rumor che circola è quello legato ai smaili dell'Empoli con il presidente De Laurenti che avrebbe avuto già contatti diretti con il suo agente ed ora il punto da Serie C nei servizi di Luigi Pasquarello e Giancarlo Spinazzola E ormai in vista del traguardo della Serie B la Juve Stabia che si è giudicata per 2-1 i derby della costiera contro il Sorrento disputato sia al Viviani di Potenza bastano appena 6 minuti di gioco alle Vespe per passare in vantaggio errore dei padroni di casa in fase di disimpegno con la sfera che arriva dalle parti di Meli che controlla e fa partire un destro chirurgico che finisce sotto l'incrucio i costieri non riescono a mettere in difficoltà la difesa avversaria mentre i giallobru spregano la chance del raddoppio con Adorante che manca il bersaglio davanti al portiere nella seconda frazione di gioco i rossoneri vanno vicino al pareggio con Vitale il cui colpo di testa si stampa sul palo a 65esimo la squadra di Paiuca trova il secondo gol con Mosti che raccoglie e non sbaglia tu per tu con Abbertazzi a 69esimo i ragazzi di Maiuri accorciano con la Monica che di testa batte Tiambri aprendo il match ma le Vespe difendono la vittoria che complice la sconfitta casalinga del Benevento allunga il loro vantaggio sui Sanniti a 9 punti in atteso a K.O. del Benevento che ha vigorito cede per 1-0 a Monopoli match viene Tommasini che al 72esimo sugli sviluppi di un corno e calcia forte sotto la travessa non lasciando scampo all'estremo difensore giallorosso le streghe provano a reagire ma in Monopoli riesce a difendere in vantaggio fino al triplice fischio finale passo-fasso anche per Lavellino che va a K.O. in casa di Giuliano Lupi avanti al ventesimo con Patierno che sugli sviluppi di un corno di destro Beffa Russo pari di Giuliano a 44esimo con Salvemini che trasforma un calcio di rigore con annessa espulsione di sgarbi per proteste nella ripresa nonostante l'inferiorità numerica Gliotti porta di nuovo in vantaggio gli Irpini ma i Tigrotti reagiscono con Cagnelutti che di testa firma il pari mentre Balde si fa espellere poi Salvemini ancora su penalty completa la rimonta regalando al Giuliano tre punti importanti in chiave playoff nella 33esima giornata di Serie C un successo pesantissimo per la Turris che vince lo scontro diretto con il Catania in Liguori e si avvicina alla salvezza i Corallini sono subito incisivi con Scacca Barozzi ma la sua conclusione finisce alta sulla traversa il Catania si vede con Chiricò che innesca Marsura ma Maestrelli evita il peggio al minuto 23 la gara si sblocca cross basso di Scacca Barozzi Viallo controlla e batte Furlan gli Etnei provano a pareggiare subito i conti con Cicerelli ma Marcone devia in angolo sul finire del primo tempo è 2 a 0 minuto 43 sugli sviluppi di un corner Yalu sigla la doppietta personale il Liguori in festa l'attaccante è scatenato e solo Contec sulla linea nega la gioia della tripletta in pieno recupero in avvio di ripresa ci prova subito Contessa a chiudere i giochi ma il tiro dalla distanza finisce alto al 57esimo l'episodio che potrebbe cambiare l'inerzia della gara Cocetta Gianmonito riceve il secondo giallo Turris in 10 per oltre mezz'ora il Catania prova ad approfittarne con Cicerelli e Cianci ma senza creare pericoli a Marcone il gol è però nell'aria ed arriva al minuto 73 per alta serve Cianci che di testa accorcia le distanze il Catania ci prova con Cicerelli nel finale di gara a trovare il gol del pareggio ma Marcone neutralizza mettendo il sigillo alla vittoria 7 punti nelle ultime 3 per la Turris che sale a quota 36 a 3 lunghezze proprio dal Catania 15 siamo al meteo il clima per le prossime ore il meteo è presentato da confetti Crispo Previsioni per lunedì al mattino sulle coste schierite alternate a nubi sparse sulle aree interne schierite alternate a nubi sparse nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni sulle aree interne bel tempo con cieli quasi sereni temperature massime senza variazioni temperature minime senza variazioni mari mossi venti moderati da sud-est previsioni per martedì al mattino sulle coste cielo nuvoloso con solo qualche breve schierita sulle aree interne molte nubi con deboli piogge nel pomeriggio sulle coste bel tempo con cieli quasi sereni sulle isole bel tempo con cieli sereni o velati temperature massime senza variazioni temperature minime in aumento mari mossi venti moderati da sud-est ci sono pianti felici che possono cambiarci per il resto della vita ma uno solo è unico e per sempre un lieto evento va sempre condiviso il lieto evento una gamma completa di prelibati confetti tutti incartati singolarmente siamo giunti ad ammettare video con la rubrica nessuno nasce imparata quando tua figlia ti porta a casa l'ultimo fidanzato e papà ahimè non lavora e si chiara ma l'orecchia appada chissi chissi non era né arte né parte esatto un modo fantastico di dire perché il napoletano in tempo antico gli artigiani o avevano l'arte la capacità di realizzare prodotti straordinari oppure avevano la parte il partito la corporazione che era pronta a sostenere l'artigiano in caso diciamo di temporaneo impedimento nel suo lavoro quindi o tu tenevi l'arte o tenevi la parte che ti sosteneva invece in questo caso chissi non era né art né parte insomma oggi parleremo di artigianato e di prodotti straordinari dell'artigianato napoletano che però attenzione gli artigiani napoletani fanno cose straordinarie solo quando tengono genio quando tengono un genio rifà in lingua napoletana una cosa fatta male è una cosa arrunzata è una cosa alla sans frasso che dal francese sans faison senza misura è una cosa fatta a occhi però c'è un detto che dice ma sta occhi ma sta i capocchi insomma una cosa fatta alla Vienetenne a Killecaven insomma una cosa fatta a Cazzicana a Cazzicana a Sperz a Scampoli e Melecotte tutte cose fatte assolutamente male una cosa fatta a Cape Cazza a Cape Mbrelle insomma una cosa fatta a Manca Chiavaca le cose fatte velocemente vengono male tutte cose fatte a Fiena a Morte Sub una cosa fatta a Shue Shue e presti presti insomma non va bene bisogna avere la giusta attenzione una cosa fatta a vola a vola ecco ma dicevo gli artigiani fanno le cose per bene solo quando fondamentalmente noi napoletani lo facciamo tutti teniamo il genio di farle in lingua napoletana la parola genio non significa solo genialità ecco ma significa anche la voglia il desiderio che ne so non tengo genio a volte anche la disposizione d'animo per fare una cosa lasso mostano stunghi geni ecco questa è una cosa fatta male una cosa fatta senza genio ma che cos'è questo genio? nell'antica Pompei come a Roma genio genius era una sorta di angelo custode ma non il concetto moderno della cristianità una sorta di nume tutelare uno spirito uno spirito positivo che ti accompagnava durante tutta la tua vita nasceva con te e ti accompagnava e ogni compleanno rinnovavi il patto con il tuo genio bene questo nume tutelare aveva il compito di aiutarti in tutte le tue cose anche di assecondare le tue inclinazioni però a Napoli noi abbiamo interpretato anche in un altro modo cioè sto genio sto genius non è che ci sta sempre insomma qualche volta non ci sta e allora per favore in questo momento non tengo genio a fare sta cosa non ci sta genio e quindi rinviamola a questa cosa la farò in un altro momento non mi voglio impegnare in questa impresa non posso farci nulla genio non c'è genio anzi a proposito senti scusa lassimo sta su questa telecamera fammi la cortesia oggi non tengo proprio genio e fa niente e anche per oggi è proprio tutto vi lascio all'appuntamento libro da settimana questa volta dedicato alla scrittrice Daniela Ottone e alla sua pubblicazione La mia Napoli domani saremo qui ovviamente con nuova informazione a partire dalle 6 del mattino buonanotte a tutti e alla sua pubblicazione